Chi non conosce la sagra della Amatriciana di Amatrice? Dopo quasi 50 anni dalla sua nascita, la risposta risulta quasi scontata. Giunta la sua 48esima edizione, sabato 30 e domenica 31, ritorna la sagra più attesa dell'anno. Solo ingredienti genuini di altissima qualità, provenienti dai produttori locali e cucinati da mani esperte, che offrono ogni anno la loro opera per la gioia di tutti. Uno dei piatti più richiesti al mondo e che rimane uno dei gioielli culinari del nostro territorio. Diverse sono le teorie in merito alla nascita di questo piatto. Accertato il fatto che nasca con il condimento bianco, la cosiddetta gricia, e che alla fine del Settecento sia stato aggiunto il pomodoro. Indiscutibile inoltre che inizia ad essere conosciuta soprattutto a Roma, ragion per cui la capitale ne dichiara la paternità, ma è altrettanto vero che i pastori di Amatrice con i loro spostamenti durante il periodo della transumanza verso le campagne romane rappresentano le vere origini della gustosa ricetta. Uno tra i segreti infatti sono gli ingredienti e la loro produzione legata a quel tipo di territorio, in questo caso l'amatriciano. Come ogni anno, la Due Giorni si snoderà lungo le vie del centro storico con la mostra a mercato delle tipicità e dell'artigianato artistico, mentre la degustazione degli spaghetti presso l'ampia piazza brigata Alpina Iulia, dove sabato 30 alle ore 17.30 ci sarà il taglio del nastro. Nota particolare che accompagna questa edizione all'utilizzo esclusivo di stoviglie biodegradabili, che la rendono a pieno titolo una eco-festa.